Dopo 41 anni e 10 mesi di lavoro va in pensione Enrica Mandelli, nota a moltissimi rivani per essere uno dei volti che si incontrano quando si entra in municipio, lavorando da tanti anni alla segreteria del sindaco. Nel pomeriggio di ieri in municipio si è svolta la festa di commiato. Originaria di Torpole, Enrica Mandelli in comune a Riva del Garda è arrivata giovanissima nel giugno del 1976, impiegata nella segreteria generale quando era sindaco Bruno Santi. Di sindaci in tanti anni ne ha conosciuti altri otto, Franco Dorizzi, Mario Matteotti, Enzo Bassetti, il quale l'ha chiamata la segreteria del sindaco, dove è rimasta fino ad oggi, Claudio Molinari, Cesare Malossini, Pietro Matteotti, Paolo Matteotti e infine l'attuale Adalberto Mosaner. Li ricordo tutti con affetto, dice Enrica. E in modo particolare Cesare Malossini, scomparso all'improvviso, che ricorderò sempre. In questi tanti anni il mio lavoro mi ha portato ad incontrare tantissime persone e in questo momento desidero salutare tutti i colleghi di lavoro e i rivani che ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare. Le autorità civili e militari, membri delle associazioni con le quali ho avuto modo di collaborare nell'organizzazione di tante manifestazioni e iniziative.